Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giupa17 e oggi siamo tornati su Mario Kart 8 Deluxe per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi, come promesso, oggi è martedì 3 aprile, sono le ore 18.30 e sono online pronto a giocare con voi il torneo Astronauta vs Pirata Ragazzi, vado a prepararmi e ci vediamo nella prima corsa di oggi Va bene ragazzi, eccoci qua nella prima corsa di oggi, come squadra ho scelto Astronauta Vedo che ci siamo comunque divisi abbastanza equamente, siamo in 11 in questa lobby più un bot gestito dall'IA Ho preso Todd col sottomarino Qui davanti ho Coccodrio88 E poi c'è anche Christian Uh, attenzione, no! Purtroppo ho perso il guscio E sono stato pure colpito da Infinite Pensavo di riuscire a prendere quel power up e invece niente Ok, ritorno in terza posizione dietro Kira e Christian Ok, dietro Kira C'è di nuovo Infinite Infinite, Infinite, tutta tua Devo aver preso qualcuno Però non so chi Ma chi è che mi è comparso davanti? Ero in testa e Christian è riapparso davanti a tutti Ah, mi hanno rubato il doppio No, dall'altra parte Dolce Otaku mi ha superato Allora, si riparte ancora Lei prende il doppio Lo prendo anch'io Qui sono finito in mezzo alla cioccolata Ok, altri funghetti Spoghetti Attenzione a David Ok, usciamo veloci Lo sapevo che mi pigliava con le banane Lo sapevo Perché mi è venuto proprio a cercare Allora, sono settimo Qui bisogna recuperare Ok, qualcuno un po' più avanti Deve aver Usato un fulmine Buono, 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 buono Ah, potevo fermare ancora qualcuno E arrivo in terza posizione Mamma mia Mamma mia, ragazzi Che finale al cardiopalma Wow Potevo utilizzare il claxon un po' più avanti L'ho utilizzato troppo presto Vince Infinite Secondo killer 280 E poi arrivo io Va bene, ragazzi Seconda corsa di oggi Big Blue Qui dobbiamo stare attenti Soprattutto nella parte finale Partenza a razzo Ah, mi conveniva fare il pieno Quasi quasi di monetine Infatti faccio che passare di qua Mi becco questo Prendo il power up Ho un bel guscio Che metto subito dietro È fichissima sta pista È veramente Fichissima Ok, ho un po' di tartarughe a disposizione Infatti me le tengo un attimo qua Ah, l'ultima mi ha preso Speravo Che la mia tartaruga verde Mi proteggesse E invece purtroppo no Inchiostro Ok, power up doppio preso Ok, ho pure beccato la stellina Fantastico C'era anche un guscio fermo In mezzo al tracciato Mamma mia Ho rischiato di prendere Una banana incredibile Sono riuscito a ficcarmi Eccolo lì Beh, almeno un power up L'ho pigliato Mamma mia Infinite Mamma mia Infinite Oh Signori Qui ho avuto una botta di fortuna Incredibile alla fine Perché c'era Infinite Con ste tartarughe Che Gli ronzavano attorno Ho dovuto frenare Per evitarlo Che casino Che casino Gran bella corsa Però mi è andata veramente di lusso Alla fine Primo io Seconda Akira E terzo Killer 280 Va bene ragazzi Valle degli Yoshi Terza corsa di oggi Parto dalla pole position Dopo l'incredibile risultato di prima Comunque adesso Restiamo concentrati Ok, sono stato molto stretto Io di solito passo sempre di qua Ah Dolciotacco mi ha portato via la monetina Prendiamo questo C'è qualcuno che ha un super claxon incredibile là davanti E' stato usato sto super claxon Oppure no Mi pare di no L'uovo Funghetto Funghetto Boh Non si sa Non si sa Infinite è riuscito a proteggersi con le banane Dai torniamo su Qualcuno è stato bloccato Un funghetto Ah anche killer Ok come immaginavo Non riesco a prenderlo Guardalo Niente Riuscite a evitare Tutti i miei attacchi Anche un incrocio incredibile Non ci voleva il fulmine però Eh Ha un beccato No ti prego Quel guscio rosso no Ti prego Eh Sono senza power up Ah è vero Ok Ho capito cosa aveva utilizzato Christian Nel dolce dolce canyon Il fantasma bu Perché i finali di gara devono sempre essere così intensi Perché ragazzi Perché Oh Ho bloccato ancora Infinite sul traguardo Incredibile Terza posizione Vi giuro Non Non speravo veramente di finire terzo Dopo Aver preso quel guscio rosso in faccia Prima del ponte Sono arrivato terzo Incredibile Killer Primo Secondo Christian Terzo Io Mamma mia Che finale Ok ragazzi Quarta corsa Siamo a metà torneo Pista di Animal Crossing Su questa pista qua Faccio sempre fatica Dovrebbe essere Ambientata durante la Stagione Estiva Mi pare Sì Mi pare che In questo momento Si è estate qua Preso No Mi è andato Uno solo Una piccola monetina Mi sono Impantanato Nella sabbia Fantastico Ok Almeno il secondo saltino Sono riuscito a farlo Ve l'ho detto Qui faccio sempre Fatica Se poi non riesco a prendere i power up Però Faccio ancora più fatica Ah ma adesso torno su eh Torno su Buono Buono Aia Kira ha usato Il super clacson Con me Wow Vedo Gusci rossi Grazie Luca Grazie Luca che L'hai lanciato Oh Stellina Chi c'è in testa Ah c'è Christian Questo me lo metto dietro Mamma mia Me l'hanno subito portato via Ok Meno male E qui è una sfida Con Luca Mi stanno bombardando Una bella bomba Per voi Ok Devo aver preso qualcuno Mamma mia Ho scortato praticamente Christian al traguardo Ah Sono riuscito a difendermi Non so come Da tutti gli altri Che gara ragazzi Bella corsa E' veramente un gran bel torneo Vince Christian Secondo io Terzo Luca State giocando tutti quanti Benissimo Grazie a tutti i nostri Grazie a tutti i nostri